Rischiava di crollare sulle panchine e sui tavoli di un bar, i vigili del fuoco hanno dovuto abbattere un albero nel centro di Ostia Antica, Pausto Trombetta. Tanto tono che alla fine piove, dopo essersi pericolosamente inclinato e infine acceduto l'albero di piazza Gregoriopoli al centro di Ostia Antica, quando stava ormai minacciando le panchine e i tavoli di un bar, sono finalmente intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco, che hanno sezionato il tronco e i rami. L'area è stata circoscritta e messa in sicurezza, ma la recensione sta provocando disagi alle attività commerciali della zona. Il pericolo di cedimento era stato segnalato più volte agli enti competenti del decimo municipio, fa presente l'associazione Salviamo Ostia Antica, senza avere reali riscontri, se non inutili promesse di prossimi interventi. Ora ci si chiede quanto dovremo aspettare per la rivoluzione di rami e sterbagli, così da liberare l'area che adesso è completamente inutilizzabile, conclude l'associazione. Più in generale, il centro storico di Ostia Antica non goda di ottima salute. I Algole sono in corte, la Fontana è in stato di abbandono e la polizia della piazza lascia quanto a desiderare, con buona pace di residenti, commercianti e turisti.